La situazione nel condominio Ather di Via Adamoli 48 ha colletterato basso a terra e tutt'altro che risolta. Dopo i lavori di ricostruzione post-sisma conclusi lo scorso ottobre, 28 famiglie sfollate hanno riottenuto le chiavi dei loro appartamenti, ma ciò ha segnato a loro dire solo l'inizio di una serie di problemi. Invece di gioire per il ritorno alla normalità dopo 7 anni vissuti da sfollati, gli inquilini si sono trovati di fronte a mobili infissi danneggiati, infiltrazioni d'acqua, spazi comuni trascurati e rifiuti di cantiere abbandonati. È sempre peggio, siamo rimasti da soli, siamo rimasti veramente senza nessun aiuto, c'è stato tolto il cassa a novembre, siamo stati costretti a rientrare, 5 mesi senza cassa, è pesante perché pagavamo affitti abbastanza alti. Siamo stati costretti a ricomprare tutti i mobili perché sono stati tutti rotti, tutti rovinati, questo è lo scempio. Oltretutto ci hanno anche detto che non dovevamo buttare qui, però sappiamo che non potevamo pagare ulteriori camion per portare tutto all'Atari. Di conseguenza questa è la storia. Nonostante i numerosi tentativi di risolvere la situazione e le proteste rivolte all'Ater, solo una parte delle famiglie è tornata nei propri appartamenti. Le altre continuano a pagare affitti in alloggi alternativi a causa delle spese necessarie per sistemare le abitazioni e delle condizioni critiche del condominio. Intanto abbiamo chiesto un risarcimento perché io personalmente ho dovuto ricomprare tutta casa, tutto, quindi chiediamo risarcimento all'Ater. E soprattutto che vengono a togliere questi rifiuti. Sì, perché andiamo incontro al caldo. Qui tra ratti, come diceva l'altra signora, i cinghiali, qui c'è di tutto, di tutto. Qua comincia a fare caldo, il mio balcone è questo. Un'altra problematica è quella dell'ascensore. Gli ascensori non funzionano. Io so che qui ci sono parecchie persone disabili. C'è una persona all'altro palazzo che proprio non può. Mi fa pena, però purtroppo è così. Eccolo qui il signore, guardi. Signor Luigino, lei è invalido al 100% e vive al terzo piano e per uscire deve fare oltre 50 gradi. La casetta di schede, non me la sento più. Come ti ho da fare, non lo so. Le chiese popolari non mi sponano. Ma se la chiese è loro, che vuoi fare? Io esternamente al quarto, internamente sarà il sesto piano. Che dobbiamo fare? Non lo so. Che si mettessero una mano nella coscienza e venneranno a risolvere qualcosa.